Io ci sono, aspetto un attimo per vedere se i messaggi mi arrivano, voglio vedere se si vede, se si sente, quindi se c'è qualcuna fra voi che me lo scrive così partiamo tranquille e aspetto, sto qui ad aspettare, intanto vi racconto una cosa, a volte le persone si possono allontanare ma se si fa attenzione si può notare che l'amicizia che le lega è sempre lì in attesa di riaffiorare. Buongiorno Rosanna, si vede, si sente? Ok, cominciamo, i commenti li vedo, li vedo da, oh la Teresa, oggi ci sono anch'io, mi spiace ragazze, so che qualcuna di voi ha questo saluto da parte mia, qualcuna di voi no, ma passano in su in frettissima i messaggi e si benissimo, vedi Rosanna, becco sempre te oggi e quindi insomma ci vedo anche poco e quindi vabbè. Cosa dite? Vi giro? Tanto lo sapete che anche se non è tutto a posto poi metteremo, vi giro, è pronte? Se non è tutto a posto metteremo a posto e mi siedo. Prima di fare la diretta, Lara, ricordati, adesso lo faccio, adesso lo faccio in diretta, ricordati di sistemare queste cose qui, questi erano i progetti della settimana scorsa, brava Lara, li hai trapuntati? Beh, non ce l'ho fatta e allora tutte le volte dico devo fare questo, questo, questo. Lara, fatti un elenco delle cose che devi ricordarti di dire, di fare. Si vede, si sente bene, la Rita mi dice questa cosa qua. E benvenute mercoledì, pronta a condividere le tue fantastiche idee? Aspetta, prima di dire che sono fantastiche, aspetta. Però io, lo sapete che questa settimana è stata un po' frenetica perché ho voluto un po' rispondere a tantissime di voi che mi avete scritto, qualcuna adesso mi scriverà delle parole cattive perché sono sempre lì in attesa, arrivo dappertutto. Il fine settimana si presenterà un po' facilino, nel senso che oggi la diretta, domani alle 2 la diretta su Instagram e giovedì pomeriggio alle 4 la diretta sul negozio delle coperte. Oggi diciamo che è la diretta importante che mi occupa un po' più di tempo. Domani forse anche, non lo ho ancora, non ho un'idea ma non so ancora niente. Venerdì invece lo sapete che è questa diretta dove il progetto è corto perché è ripetuto un po' di volte. Avevo proprio voglia di vedervi però secondo me se partiamo facciamo proprio una bella cosa. Intanto lo so Rosanna, ma tu sei la prossima. Io non so se riuscirò a fare tanto dopo la diretta, però tu sei la prossima nell'elenco. Ma lavoro anche di notte, ma che ora rifai? Abbastanza. Però finché reggo, finché mi diverto, finché c'è la passione, finché ci siete voi, io andrò avanti con questi rivi magari no, perché stasettimana si presenta tosta. Però io non ho niente da farvi vedere per adesso, quindi vi giro, cominciamo a lavorare. Adesso vi farò vedere un blocco. Intanto chiacchieriamo, vi dico le cose, insomma quelle che mi preme dirvi, perché lo sapete che io preparo un progetto che non è questo, questo è quello della settimana scorsa. Io preparo... Uliana, benvenuta! Io preparo il progetto, poi qualche volta lo finisco, come è successo qui e qualche volta invece è a pezzi. Questa volta è a pezzi, quindi ci sarà il risultato finale. Ci sono delle fatine che mi devono ricordare una cosa. Allora innanzitutto ricordatemelo se mi dimentico siete autorizzati a mandarmi o addirittura una telefonata o comunque un messaggio su whatsapp, perché alla fine vi devo raccontare una cosa che ho fatto questa volta per scegliere i colori di questa cosa che andremo a fare, ma non vi dico di più. E soprattutto, ma quella cosa lì me la ricordo perché è proprio uno dei punti che voglio suggerirvi, perché questa mattina facendo una diretta sul negozio delle coperte ho sbagliato talmente tanto che ho detto ragazzi ricordatemi che questa cosa qui la diciamo in diretta. Partiamo? Vi giro. In teoria vorrei fare tutto sul piano stiro, quindi con il mio pianetto blu cercare di fare tutto. Speriamo che questo pianetto blu non vada troppo a spostarsi che mi... che insomma andiamo a sbagliare i tagli. Vi giro e andiamo. E speriamo insomma di riuscire a fare una cosa bella. Vi chiedo sempre la solita cortesia, intanto che io giro, che non so come... petate eh, state lì. Ok, pronte. Vi chiedo sempre la solita cortesia, se avete voglia di condividere il video che magari entra qualche altra Fatina a guardare assieme a noi e ci fai vedere cosa hai sbagliato questa mattina. brava Teresa. Vi faccio vedere. La Maria Cristina è arrivata. Io parto. Oggi andremo a lavorare su questi su questi pezzetti che io mi sono preparata per non avere tutti i tessuti qui che girulano. Lo sapete, attenzione, tenetevi che questi... non riesco. Ho chiuso talmente tanto questo porta tablet che che questi sono i tessuti che andremo ad utilizzare. Vi giro di nuovo e andiamo. Siete anche cadute, non ho capito perché, vabbè. E andiamo. Aspettate che questi mi serviranno dopo. Andiamo a prendere questi quattro e... Hai tutto vicino, Lara. Sempre. Diritto contro diritto. Vado a fare una diagonale e... e adesso tutte le Fatine vanno via perché dicono mi... sempre questi quadrati composti. Li sappiamo fare tutti. Certo che li sapete fare tutti. Sono contenta se li sapete fare perché voglio farvi capire... aspettate che controllo perché chiacchiero chiacchiero... voglio farvi capire che tutti i progetti possono venire suddivisi, separati, scomposti e effettivamente è vero che ci sono delle tecniche particolari, delle tecniche diverse, però a lungo andare è tanto molto ripetitivo. La nostra creatività sta nel giocare con i tessuti, giocare con le varie combinazioni, però effettivamente vedete che in poco tempo si può imparare a fare tanto. Allora, voi lo sapete già, diritto contro diritto, ho disegnato una diagonale, cucio a destra e cucio a sinistra di un quarto di pollice. Questi li mettiamo lì. Questo piccolo blocco che io ho già tagliato con questi triangolini, molto probabilmente lo capite già chi mi segue da un po' sa che andremo ad utilizzare ancora una volta la squadretta di Dagleco. Questa volta senza paracadute perché io non mi sono ricordata di segnarmi le misure, quindi proverò a dirvele un po' a memoria. Allora, quando io voglio fare un quadrato, ricomincio, quando io voglio fare un triangolo e il mio triangolo so già che sarà così, quindi questo lato ci sarà questo colore scuro e questo sarà questo colore poco poco più chiaro, io vado a calcolare questa come misura finita, questo pezzo qui che è 1. Allora, cosa vado a tagliare? Cosa mi dice la regola di questa squadretta? Se io voglio fare un taglio di 1, così come sarà il mio blocco finito, devo tagliare 1,5. Quindi sistemo la squadra in questo modo, mezzo, 1, 1,5 e 1,5. Me lo sistemo bene. Io parto, io vado e tagliamo. Me lo sistemo e taglio così. 1, tutti e 4 li dobbiamo fare. 2, vedete che poi è molto automatico perché io vado, adesso ve lo rispiego, io sistemo così, il taglio che devo fare è questo, vado a prendere mezzo 1, 1,5 è questo rombettino che c'è qui, vado a sistemarmelo e taglio. 3 e ancora un altro pezzo, sempre sull'1,5. Poi vedrete che diventerete delle esperte e farete anche tanto in fretta. Quando sulla vostra tabella, lo sapete che l'ho persa, ho dovuto aprire una squadretta e scopiazzare le istruzioni di una squadretta nuova perché le mie istruzioni salteranno fuori quando non mi servono più. Allora, taglio con la misura di 1,5, devo avvicinare un triangolo che deriva dal taglio sulla diagonale di un quadrato da due pollici e un quarto. Ma questo non l'ho inventato io, c'è proprio scritto sulla tabella della squadretta. Vado a prendere il mio triangolo e mi piacerebbe avere anche degli spilli e faremo senza questa volta. Vado a sistemarmele tutte in questo modo. Quindi così, quindi così e così. Questo è, adesso vi giro, mi dovete guardare. Questo è, aspettate che, questo è il modo, aiuto perché non mi giro, non girate, non girate. Cioè scusatemi ma io oggi perché non riesco a farvi girare? Eccoci. Allora, qual era il problema che ho avuto questa mattina? Quando io vado a tagliare questo angolino su un tessuto che non ha diritto rovescio, sapete che questi tessuti della Diamond Textile non hanno diritto rovescio, alcuni. Devo ricordarmi assolutamente che il mio pezzo dovrà essere così e poi farò così. Non assolutamente così che poi farò così e mi viene specchiato. Aspettate che adesso lo risistemo perché poi va a finire che sbaglio. Quindi fate molta attenzione che non è che prendete il pezzo e cucite da questo lato o da questo lato. Dovete veramente seguire le istruzioni come se voi lavoraste con un tessuto che ha un diritto e ha un rovescio, quindi un tessuto americano. Questo fatto di non avere diritto e rovescio qualche volta ci facilita, qualche volta invece ci fa rischiare di fare degli errori. Stessa cosa per questo, ed è quel punto che io continuavo a sbagliare, perché devo venire di lì da voi per vedere se riesco a farvi vedere perché. Questo tessuto, lo vedete che ha questi rombi disegnati, ecco così si vede e sono scuri. Da questo lato i rombi vedete che sono, eccoli qui, più chiari. Io ho deciso che questo è il mio diritto e di conseguenza devo assolutamente andare a posizionarlo con il diritto contro diritto, contro ho detto diritto. Andiamo a cucire, così almeno aspettate che spostiamo il telefono qui, tanto poi alla fine io mi dimentico un po' di guardare i vostri messaggi quando cominciamo il lavoro. Vi metto qui e cominciamo a lavorare. Allora, controllate mille volte prima di cucire. Allora, io per non sbagliare segno il gesso e il rovescio, così non sbaglio. Ecco, quello è una buona tattica, una buona tecnica. Ognuno ha poi le sue strategie per seguire queste cose. Guerrina benvenuta. Allora, lo sapete che io sono una fan delle cuciture a catena. Con questo noi dovremmo andare a fare questa cucitura? No, perché noi abbiamo questa punta che rischia di andare a finire dentro nella nostra macchina da cucire. Quindi andiamo a fare questa cucitura, stacchiamo, facciamo l'altro pezzo, stacchiamo, facciamo l'altro pezzo, facciamo in fretta, non è una cosa che ci provoca un disagio. Ce la facciamo e riusciamo a fare in fretta. inoltre, non vado a partire qui dalla cucitura, perché vedete, guardate, vi giro, vedete qui quanto spazio c'è? C'è proprio un pezzettino in più, è proprio tagliato apposta questo pezzettino in più. Di conseguenza io vado e punto qui il mio ago, in modo che la mia macchina non fa tutto questo pasticcio, ma comincia a cucire da un pezzetto di stoffa. C'è la sedia che mi dà fastidio, ma ce ne faremo una ragione. Vedete? Io comincio a cucire quando il tessuto è già cominciato. Il tessuto che è già cominciato è quello sopra, che poi dovremo andare a rifilare. Un altro problema di questa cucitura. Se voi non fate attenzione, questo pezzetto rischia di sforbiciare e di tendersi, perdere un po' la forma e rischia di fare una pancia del genere, in modo che qui andate a cucire male, andate a cucire meno di quello che serve. Quindi, piano, fate attenzione, in questo caso stiamo lavorando con tessuto in sbieco. La macchina da cucire deve fare il suo lavoro, non siamo noi a tirare, non siamo a spingere, fa tutto lei. Adesso vi faccio vedere, ho fatto una cucitura bruttissima. Vedete che questa cucitura deve essere bella. Non sono andata fino in fondo, non sono partita dall'inizio. L'importante è partire da questo lato. E li facciamo tutti. E poi, già che ci siamo, iniziamo a fare anche i quadrati composti, che tanto li sappiamo già fare. Avete visto che in questo pezzo io ho lo spillo? Vedete voi. Ricordatevi sempre che dovete fare attenzione. E con tutti i pezzi che fate, andate a controllare di avere fatto diritto contro diritto, se voi andate a cercare il rovescio. Quindi fate attenzione. Ecco, qui per esempio mi è un po' partito. Adesso vi faccio vedere. Guardate che cos'è successo. Mi sono distratta, non ho tenuto fino in fondo. Guardate che pasticcio che ho fatto in fondo. Vedete che la stoffa ha fatto così, quindi il margine, io l'ho rispettato il margine, ma la stoffa si è spostata. Quindi rimetto, metto sotto il tessuto e questa volta faccio attenzione. Non disco niente perché tanto, adesso vi faccio vedere, tanto la cucitura che avevo fatto prima era una cucitura piccola, più stretta. Adesso, vedete, questa è la cucitura, quella in basso, è la cucitura che ci serve. Ne manca uno. E qui è il primo punto dove, vedete che comunque rispetto all'altra volta i pezzetti sono più piccoli e quindi dobbiamo fare sempre più attenzione. Vedete che qui andate anche un po' più piano e li mettiamo sul piano stiro. Ma se noi cucciamo dalla parte della stoffa chiara è lo stesso. Io l'ho fatto così perché poi alla fine preferisco averli già a posto per stirare. Effettivamente negli altri blocchi ho fatto un po' un po', non c'è una parte. Diciamo che quando io vi faccio le... sto cucendo un quarto di pollice dalla linea del pennarello. Quando io vi faccio tanti blocchi faccio le due alternative per farvi vedere e suggerirvi il modo migliore. In questo caso non ho avuto... non ho avuto un metodo migliore. Diciamo che più o meno le cose si sono equiparate. Sto andando a cucire un quarto di pollice a destra e un quarto di pollice a sinistra della mia linea del pennarello. Tessuto diritto contro diritto. Ricordatevi sempre che io sto usando quel tessuto marrone scuro fatto a rombi e quindi ci serve un po' che sia... cioè dobbiamo andare a controllare che sia diritto contro diritto. Adesso vi giro perché vado a togliere... ho disfatto anche un pezzo... vado a tagliere... queste... tutti gli spilli. Tolgo il piano stiro, tolgo le squadrette, vi giro e vi sposto. Ok. Perché andiamo a stirare... no non è vero. Tolgo il piano stiro, non togliere il piano stiro e l'ara che poi hai bisogno di tagliare. Vabbè la squadretta di Dagleco non è... non serve a questo però mi è sufficiente la diagonale quindi tagliamo così. Siamo a posto così. Allora dobbiamo fare attenzione a come a come stiriamo. I pezzi che noi abbiamo tagliato quindi questi rettangoli con l'angolino finale li stiriamo dal chiamiamolo tessuto della stella perché noi alla fine faremo una stella verso il colore di fondo. Quindi... scusate... quindi da così a così. Questo lo ripasseremo perché c'è il ferro freddo. Questo era quello che avevo stirato mal... che avevo cucito malino ma l'abbiamo ripreso. E praticamente li stiriamo tutti in questa posizione così. E adesso poi gli diamo un'altra passata quando il ferro... ecco adesso ce la facciamo... quando il ferro è un po' più caldo. E ci siamo. Il... questi quadrati composti invece andiamo a lavorare al contrario cioè appoggiamo il tessuto di fondo e andiamo verso... anche se in questo caso è verso il chiaro. È un... è una... diciamo una regola che poi è vero che potete fare quello che volete e assolutamente se vi trovate che sbagliate è un tessuto totalmente fine che se... non dito da nessuno ma se girate qualche cucitura io non vi dico niente. Però questa è una regola che ci permette di andare avanti poi nel... nel prossimo blocco che insomma... poi vi farò vedere. Vado a tagliare gli angolini in questo modo. Forbice che taglia bene oppure la rotella vedete voi come siete più comodi. Io logicamente per questioni di spazio e di posizione eh... faccio così in modo da... non... che tanto poi... fantastico Lara! Furba! Sveglissima oggi! Che tanto? Adesso mi devo mettere qui perché... dobbiamo andare a... eh... rifilare. Vedete che questo quadrato... questo triangolo è troppo grande e quindi vado a rifilarlo in questa posizione. Vado a segnare la mia diagonale dove c'è il numero uno e vado a fare questo taglio. In tutti e quattro i pezzetti che abbiamo disegnato. Vedete che andiamo a fare il numero uno. così... 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 magari se toglievo il ferro e non ero... e non mi dava fastidio era anche una bella cosa però. E così... noi siamo a posto per cucire una... scusate... una delle stelle che... non è vero che siamo a posto... come sempre ho perso un pezzo. Aspettate state lì che da qualche parte l'avevo tagliato. Qui non c'è... qui non c'è... ah... se lo cerchiamo... eh... dovrò tagliarne un altro. C'era... sono sicurissima... e lo taglieremo. Allora... chissà dove l'ho messo... boh... vabbè... salterà fuori... se non salta fuori... lo tagliamo in diretta. Allora... questa stella è fatta in questo modo. Vi ricordate la frase che ho detto prima e che qualcuno mi ha detto assolutamente vero? qualche volta l'amicizia rimane un po' nascosta. Ci sembra... ehm... di... di esserci allontanato da... allontanate da alcune persone... e invece effettivamente quelle persone sono sempre lì. Un po' come... e adesso vado a prendere un block notice e provo a farvi vedere quello che volevo spiegarvi. Un po' come la stella dell'amicizia che è... se ve la ricordate... aspettate che vediamo se riesco a disegnarla bene. Così... vi ricordate? Questa che è la nostra variante della stella dell'amicizia ha... così... i blocchi principali un po' distanziati... uniti da questi. Però effettivamente se noi togliamo questi piccoli pezzettini che abbiamo disegnato adesso ci riportiamo ad una stella dell'amicizia. Pensate come sono contorta... mentre cucivo questa roba pensavo alla stella dell'amicizia. Quindi... vabbè... dobbiamo cominciare a cucire a questo punto. Come andiamo a cucire? Andiamo a cucire questo pezzo... questo pezzo... poi questa striscia che possiamo già cucirla tutta assieme... questa striscia che possiamo cucirla tutta assieme... in modo da crearci il nostro... il nostro blocco. Ci sono... nel cartamodello che poi vi darò delle misure obbligate. Perché ci sono delle misure obbligate? Perché? Beh... innanzitutto vi ricordate che vi avevo detto... dal colore della stella verso il nostro... il nostro colore che cambierà per tutti i blocchi e questo invece... scusate non ci siete... e questo invece da questo colore verso l'oscuro. Perché? Perché io quando vado a cucire diritto contro diritto... ho la scalettina che mi aiuta a... a fare un... aspettate che vi faccio vedere... a fare un angolo... perfetto... no... che poi diventa così... aspettate... così... vedete? che cosa dobbiamo andare a fare? Noi... controllate bene quando maneggiate le cose... controllate bene che sia la posizione giusta... che cosa dobbiamo andare a fare? Dobbiamo andare a fare questa cucitura... è comodo inserire questo pezzo nella macchina da cucire così... qui c'è un po' di spessore... rischiamo di fare un pasticcio... io preferisco inserirlo così... controllate... adesso vi giro... facciamo questo e facciamo questo... controllate sempre la posizione migliore per poter cucire... ma... eh... fate... fate comunque attenzione poi quando dovete... ehm... riposizionare sul blocco... sul blocco originale... insomma sul... sulla vostra disposizione... quindi... vado a fare questo lavoro... qui si... si poteva fare eh... una cucitura a catena... si può fare assolutamente... vado a fare anche questo lavoro... sono sempre cuciture a un quarto di pollice... qui mi è scappato un po' ma... riusciamo... sono sempre cuciture fatte ad un quarto di pollice... quindi... logicamente... eh... più siamo precise e più... voi mi vedete vero... più siamo precise e più il lavoro sarà... sarà fatto bene... qui... eh... fuori a di farne... io mi sono... così... eh... presa un po' eh... l'abitudine... ecco vedete che qui... ok... ho preso un po' l'abitudine... la linea orizzontale... di farla divisa in due... ossia i primi due... blocchi... i secondi due... vedete... comunque sempre diritto contro diritto... e poi senza muovere niente... vado semplicemente a tagliare i pezzi... e a fare la cucitura centrale... perché così almeno... ehm... si fa prima... perché... effettivamente... così si fa prima... vedete... io apro così... apro così... devo fare... non ci siete... diritto contro diritto... e vado a fare questa... lavorazione... eravate scappate... e... vado a... eh... far scorrere con le dita... fino a che... il tutto mi viene... preciso... e... la mia cucitura è fatta... il mio blocco è... la parte superiore del mio blocco è fatta... dopo andremo a stirare seguendo le indicazioni... ehm... eccolo qui... seguendo le indicazioni giuste... i due laterali che abbiamo cucito prima... adesso li stiro di nascosto da voi... non hanno una... una regola... per la stiratura... potete fare dal... dal quadrato composto verso il piccolo pezzettino che abbiamo... che abbiamo creato... non... non vi da... non vi da nessun problema... li ho stirati di nascosto perché... il... eh... la seconda riga sarà così... e quindi io vado a fare diritto contro diritto... diritto contro diritto... logicamente... vado a cucire su questo pezzo... che ha le due... ehm... che ha... che ha l'angolo... perché se... se... non sono capace di parlare... se voglio... non mangiare la punta... mi devo andare a prendere come riferimento... l'incrocio di queste due... eh... cuciture che vedo... e non oltrepassarlo verso destra... verso sinistra... grande Lara... ok... quindi... questo è fatto... vedete... diritto contro diritto... anche qui... la comodità... mi... mi dice di cucire così... ma se io giro... vedo questo angolo... vedo questo incrocio... e quindi non lo supero... e quindi... non mi... poi magari se riesco a partire è bello... e quindi non rischio di mangiare la punta... ecco... tagliamo... in questo... eh... momento io so esattamente che... eh... vi sposto... in questo momento so esattamente che vi sposto... allora vi sposto perché... noi... quando andiamo a cucire i blocchi... andiamo sempre a... vedere... eh... di rispettare la piega naturale del... dei tessuti... delle cuciture... qui la piega naturale è rispettata in questo modo... ma... essendo questo blocco... che deve andare a incastrarsi con gli altri... questa piega... io la... eh... forzo... perché... vedete che... devo... uscire... dal... dal... dallo scuro... verso... diciamo queste... chiamiamole... anatre in volo... eh... irregolari... cosa andiamo a fare? un po' di amido... perché così... la piega... aspettate che però... vi sposto... perché sono più comodo a stirare così... perché così almeno la piega... mi si... eh... gira meglio... quindi... così... e quindi... così... sarà... sarà... un blocco... dal momento che poi dobbiamo... dovremo unirli assieme... sarà... un blocco... facile... ossia... eh... un blocco che noi andremo a... eh... rispettare... eh... con cui noi andremo a rispettare... eh... le nostre... le nostre cuciture... con un blocco... vedete come questo... in cui... vado... eh... contro... 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 però... però con il nostro amido... insomma... riusciamo abbastanza... andiamo a cucire questo... quindi... questi due... volete... venire con me? Sì... dai... venite con me... non siete ancora tanto stanche oggi... allora... diritto contro diritto... e andiamo a fare... questa cucitura... poi andremo a fare l'altra... qui sono... eh... non parte oggi... qui sono... aspettate che... proviamo a vedere se... ok... qui sono... in questa posizione... dovevo guardare un po' prima... dovevo accorgermene un po' prima... devo fare attenzione... perché vedete che questa piega... dal momento che... siamo stati così attenti a farla... così come... come la regola... non... non si deve... non si deve alzare... insomma... dobbiamo fare un po' d'attenzione... ultimi due blocchi... diritto contro diritto... lavoriamo a catena... il pezzo è già stato... trascinato dal... dal trasporto della macchina... e... vado... a tagliare... in questo modo... apro bene... risistemo i blocchi come devono essere fatti... vedete che qui c'è la mia punta... diritto contro diritto... questa cucitura va giù... questa va verso l'alto... fa... l'alto... faccio l'incastro... quindi qui... aspettate... mi trema la mano... non ho né... né un buco... né una sovrapposizione... ma ho creato un incrocio perfetto... non parto a cucire da qui... perché c'è un po' di spessore... ma giro... e parto dove... il lavoro... diventerà più facile... e... anche qui... eh... sì... vi giro... perché tanto adesso... andiamo a cucire... quindi... vi faccio vedere... vi giro... vi sposto... attenzione... qui... allora... andiamo a fare... se qui abbiamo fatto... eh... dal centro verso l'esterno... qui andiamo a fare... dall'esterno... questa... vi ripeto... non... non ha... è indifferente... eh... ma questi... invece... devono essere fatte... dall'esterno... all'interno... così... e adesso... non ci resta... che andare a lavorare... sugli incroci... colla... magica... perla... perla qui... perla qui... e qui... diritto... contro diritto... poi ci sono tutti i triangolini appiccicati... andiamo a... sistemare bene... con le mani... il nostro... il nostro incrocio... stiro... e andiamo a cucire... volete... venire con me... certo... scusate... se no che cosa... la facciamo a fare la diretta... se vi lascio da sole... però magari... se riesco a sistemare il telefono... qui... e vedere... che andrò... storta... ma magari... c'è qualche messaggio... la squadretta che stai usando... si può sapere il costo... scrivimi... eh... Ugliana... così almeno... te lo... ti faccio... ti faccio poi... ti faccio poi... a vedere... eh... non ci stanchiamo... guardanti... dobbiamo imparare... no... ma... a vedere... dai vostri lavori... che mi spedite... diciamo che... posso anche... essere... soddisfatta... nel senso che... un po' un po' avete imparato... quindi... sono proprio... tanto... tanto... contenta di voi... e... tieni la sagoma di plastica... 3x3... costo... grazie... anche tu... eh... Clara... mi sembra... Clara... scrivimi... intanto... vi giro... allora... intanto vi do il mio numero di cellulare... 347... che è scritto ovunque... 347... 8946... 511... eh... non spaventatevi... se non... leggo subito i vostri messaggi... ma... sono un po'... nelle curve... e quindi... insomma... però... arrivo... eh... se non li leggo... guardate come ho stirato bene... cercate di stirare meglio di me... adesso ci sarà... qualcuno che... che mi dice... eh... fate quello che dico... no... com'è... fate quello che dico... ma non fate quello che faccio... certo... io... ce la metto tutta... poi... ogni tanto mi partono delle cuciture... che non stanno né in cielo né in terra... però... adesso... che... il blocco... è finito... vi posso far vedere... questa... particolare stella dell'amicizia... ho fatto un errore... chi mi dice che errore sto facendo... ma non disfo... adesso aspetto... a parte che... ok... adesso aspetto i vostri commenti... e... però devo... però... voglio... voglio vedere se... qualcuno mi... mi dice... l'errore che ho fatto... eccomi... ciao portento... ciao Elena... vi giro... eh... non ho più i messaggi... sul tablet... perché... che fenomeno che sono... avrò già toccato qualcosa... allora... eh... questo blocco... deve essere cucito così... qui è brutto... bisogna andare poi a riprendere... ho fatto una cavolata... aspettate che vediamo che cosa... è brutto qui vedete... però poi dopo lo guardiamo... tanto non trapuntiamo niente oggi... allora... dall'alto verso il basso... e... dal basso verso l'alto... questo... è uno... bah che brutto... questo è uno dei blocchi che andremo a... eh... che dobbiamo cucire... quanti sono i blocchi? sono nove... e adesso... mi piacerebbe tanto sapere... dove ho messo quel pezzo di tessuto... che doveva... però secondo me qui... ah... lo troviamo... e lo tagliamo... allora... eh... perché te lo ricordi ancora... che misure aveva... io no... aspettate che misuriamo... taglio... in frettissima... voi guardatevi la stella... guardate come faccio io... quando faccio le foto... e c'è un difetto... guardatevi la stella... che bella che è... e... intanto... taglio questo pezzo... che secondo me poi... poi dopo lo troviamo... quando non mi serve più... logicamente... tagliamo questo pezzo... perché? Perché io... nel frattempo... ho... tutti altri pezzetti... per cucire... un'altra stella... che... avrà... dei colori... diversi... allora... fatemi vedere se non ho fatto qualche cavolata... secondo me qualche cavolata l'ho fatta... perché questo non serve... questo si vede che è di un altro blocco... allora... soliti... eh... triangolini... e rettangoli... e andremo a cucirli... solito... ehm... quadrato composto... sapete che cosa ho bisogno a un certo... a un certo momento... della nostra... è caduto tutto... eh... sapete che cosa ho bisogno a un certo momento... della nostra diretta... avrei bisogno di sapere... l'ora... no... non è vero che... che non... che non serviva... serve anche quello là... vedete che... l'ho già messo via... e invece... ne abbiamo bisogno... allora... quadrati composti... faccio la... diagonale... ehm... non hai controllato gli incroci... dovevo cucire al contrario... Nives... dieci elode... brava... è vero... ero... insomma... ormai con... con la cucitura avviata... quindi... eh... anche voi... non è il caso... cioè... nel senso che... quando vi succede... così... non è il caso di dire... ah la Lara però dice... no... voi proseguite... eventualmente... voi sapete... che se quella cucitura lì... non è venuta bene... è per quello... però... insomma... assolutamente... non... non tornate indietro... eh... eh... 14 e 40... siamo... molto puntuali... oggi... intanto sto guardando i messaggi... quindi sto facendo delle curve... però... fa niente... ma questo l'ho già fatto... ma che... grande... perché una parte l'ho fatta e l'altra no... boh... vabbè... allora... andiamo a... tagliare... poi questi triangoli... che saranno i triangoli composti... qui di solito... adesso faccio come Maria Cristina... eri tu vero... adesso lo cuciamo al contrario... come mi dicevi tu... a parte che qui... ho voluto mettere gli spilli... e mi danno fastidio... però li avevo fissati... questa mattina... cioè... non... questa mattina... appena prima della diretta... li ho preparati questi pezzi... però... io... avevo paura che mi... di... di perderli... è per quello che li ho... che li ho puntati... secondo me... allora... eh... vi ripeto... non ho una particolare preferenza... per cucire così... oppure... adesso faccio la prova davanti a voi... vediamo eh... allora... sto facendo delle cuciture che... spostiamole via... così non le vedete... o così... sapete che io preferisco così... non so perché... non... non vi so spiegare il perché... ma io preferisco fare la cucitura così... avete notato che... beh... innanzitutto... ma adesso vi faccio vedere due cose... innanzitutto... ho... Maria Cristina mi dice sì... ma non so che cosa... l'importante è dire sempre sì... va bene... allora... innanzitutto... ho cambiato il colore... perché... eh... prima avevamo... adesso vi faccio vedere... tutti gli spilli in mano... di giro... così mi guardate un po'... mi siedo... di giro... allora... prima avevamo questo marrone... e il marrone scuro... adesso questo marrone... per incanto... per magia... perché... vabbè... qui la magia... è di casa... questo marrone scuro... è stato trasformato in questo... rosso... d'altra parte... vi ho fatto vedere una fila di tessuti... da qualche parte... dovremmo pure usarli... questo rosso... ricordatevi sempre... che... dal momento... che sto usando anche... il solito... marrone scuro... anzi... controlliamo... tutto giusto... tutti i tessuti... eh... tutto... tutto il tessuto... marrone... messo... dritto... ricordatevi... che deve essere... diritto... contro... diritto... questo è il diritto... quindi... va all'interno... della mia cucitura... ma... ha fatto... ha fatto la sua comparsa... anche... un triangolino... bianco... e... un quadrato... composto... bianco... andiamo a tagliare... anzi... prima andiamo a stirare... e poi andiamo... a vedere... che cosa... combino... vi giro... cerco... cerco di girarvi... lentamente... allora... andiamo a prendere... tutti i pezzi... Maria Cristina... sì... sono io che ti ho chiesto... se si poteva cucire... dall'altra parte... mi faccio la domanda... e faccio la risposta... allora... dal colore... diciamo... prima vi ho detto... eh... che... il marrone... eh... e a questo punto... voi non lo sapevate ancora... ma... il bianco... vengono considerati i colori... che si ripetono... in tutte le piastrelle... in tutti i blocchi... questo colore... è quello che viene ripetuto... che è quello che viene usato... eh... in un blocco... in ogni blocco ci sarà un colore diverso... questo invece devo tagliarlo... in ogni blocco verrà utilizzato un colore diverso... quindi... nei nostri rettangoli... ho perso tutto... ehm... dovremo appoggiare... il colore... diciamo... verso... eh... qui la riga... taglio sulla riga... dovremo appoggiare il colore verso... ehm... chiamiamoli i colori che si ripetono... qui... dai colori che si ripetono... chiaro o scuro... ehm... è indifferente... verso il colore che cambia... ehm... tutti i blocchi... vi ricordo che mi è venuto in mente il flash... che... io ho fatto questo... allora... aspettate che vi dico le cose... poi non me le ricordo... così... quindi dal marrone... verso il colorato... e poi... di conseguenza dal bianco verso il colorato... vi ricordo che io... ho voluto proporvi questo... ehm... questo... questo... questo progetto... ehm... di nuovo con i tessuti... ehm... giapponesi... però... logicamente... ognuna di voi può anche scegliere un progetto con i tessuti americani... e quindi colorati... insomma... con un po' di accortezza... però... possiamo trovare... una... una bella cosa... aspettate che... secondo me ho fatto... mamma mia quanti errori oggi... aspettate un po' non è vero che questo ci serve... perché... perché non ci serve questo... quindi l'ho fatto in più... quindi... perché io voglio fare una cosa... e quindi vedete che... i tessuti... i blocchi che ci servono sono questi... Lara... taglia per terra... non mettere qui gli angolini... che poi ci metti un'ora a pulire... fa niente... allora... in questo blocco... voi vedrete... non sono ancora convinta... eh... però... sì... è giusto... dove sto guardando... secondo voi... in questo blocco... voi vedrete che... questo... è tutto... scuro... in questo... ah... non l'abbiamo tagliati... fretta... la fretta... in questo ci sarà... non trovavo più la squadretta... in questo ci sarà... solo un triangolino... eh... bianco... allora... andiamo a fare questo lavoro... di nuovo... andiamo a squadrare sull'uno... si ripete... eh... le misure sono sempre le stesse... quindi... eh... taglio... uno e mezzo... il quadratino... misura... due pollici e un quarto... e lo divido sulla diagonale... e adesso... vedete... sono... non vedete niente... sono andata a... eh... rifilare... mettendo... la mia cucitura... quindi lo stacco... dei miei due colori... sul... eh... sulla linea... che si chiama... uno... così... 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 e così... adesso sì che possiamo andare a fare... la nostra stella... vi prometto di fare... anche in fretta... perché... no... non ci sono... eh... guardo sempre che non stiano partendo telefonate... perché io questa la voglio fare bianca... poi... qui abbiamo i nostri... eh... quadrati... del colore... del colore... del colore... quadrati colorati... e qui... sempre le nostre stelle dell'amicizia... abbiamo stirato... in modo da fare... queste cuciture... fatte bene... aspettate che le sistemiamo così... e adesso... in fretta... andiamo a fare le stesse cuciture... allora... io... non vedete... così... allora... magari mi state anche dicendo... non vediamo niente... vabbè... allora... io vado a fare... questa cucitura... questa cucitura... e poi unisco assieme... queste due... queste due... poi andremo ad unirle... assieme a questo... ricordandoci di... cucirle al contrario... perché così vediamo l'angolo... e poi questa... unita... e questa unite... e poi unite... a metà... vi giro... e non vi faccio... e non vi sposto... cioè... nel senso che... vi ho fatto il riassunto... di quello che andiamo a fare... logicamente... io... ho scelto di cucire così... potevate assolutamente... cucire... prima... tutta la striscia... insomma... mmm... questo è una... è una... è una praticità... che... che ho... che ho deciso io... ma... assolutamente... non... non è una regola... ah... un'altra cosa... vi devo dire... guardate... forse... adesso vengo a sbirciare... a vedere se vedete... guardate... sì... guardate questi due tessuti... questo... ha una linea orizzontale... quello che sto cucendo adesso... ha una linea verticale... ho... mmm... volutamente... non fatto attenzione... a questo... a questo discorso... nel senso che... voglio proprio... eh... utilizzare questi tessuti... sì... in una maniera molto... molto facile... molto... molto rilassante... quindi... anche perché... se voi voleste... utilizzare questi tessuti... per esempio questo... sempre con le righe verticali... poi ho dei blocchi da farvi vedere... bellissimi... perché ci sono dei tessuti davvero... belli... eh... in questo... in questa scelta che ho fatto... scusatevi... dico questo... la cucitura... dal marrone... verso il colorato... e dal colorato... verso il chiaro... è perché mi permette di... eh... unire questi pezzi... ed aprire... facendo questo angolo... fatto bene... questa distanza è un quarto di pollice... ci servirà per la cucitura successiva... vado... ehm... se... ehm... se... ehm... noi volessimo... avere... su uno di questi tessuti... il verticale... tutti verticali... oppure tutti orizzontali... andremo incontro ad un... uno spreco di tessuto... tanto grande... e di conseguenza... insomma... non ne vale la pena... io preferisco... anche perché... questi tessuti... eh... a lungo andare... ci... ci fanno... chiaramente... vedere... delle sfumature... che assolutamente... non dipendono... dal chiaro... dal... dal verticale... o dall'orizzontale... della... della cucitura... poi... è vero che ci sono... certi progetti... che lo richiedono... assolutamente... questo... non lo richiede... vedete... io vado... a fare l'incastro... mh... per comodità... per velocità... per praticità... io non sto mettendo gli spilli... chiaramente... sarebbero... dei punti... in cui gli spilli vanno messi... ma guardate... se voi arrivate... senza bucarvi le mani... fino in fondo... eh... l'incastro... non vi... eh... provoca... nessuno scostamento... e quindi... alla fine... potete anche... eh... non mettere gli spilli... tra l'altro... ehm... li abbiamo fatti... in modo che... eh... anche se... la macchina... trascina... e quindi... tira di più... di quello che spinge... abbiamo l'incastro... delle due cuciture... quindi... effettivamente... se lo posiziono bene... prima... non si possono muovere... una volta che sono lì... taglio... e che piedino hai... sulla tua macchina... sulla mia macchina... te lo dico subito... lo guarderò cento volte in un giorno... ma non me lo ricordo mai... 57D... comunque... eh... voi cucite... a una distanza di un quarto di pollice... eh... piedino con la guida... senza guida... se avete un piedino... eh... che non dà la distanza di un quarto di pollice... eh... potete... mh... spostare l'ago... insomma... di strategie... e di... eh... modi di... intanto... vi giro perché stiriamo... di modi di... di... insomma di... di... di fare queste cuciture... ce ne sono tante... allora... che cosa dobbiamo stirare? dobbiamo stirare questo lato... in su o in giù... effettivamente... questo laterale non ha... eh... non ha importanza... diciamo... andiamo a cucire... questo... ma questa... guardate... ma questa volta... da questa parte... questo è il punto... che non dobbiamo superare... vedete... l'incrocio tra la diagonale e la linea... principale... e poi... andremo a cucire questo... unito... mh... diritto contro diritto... vado... si va... in giostra... casa mia... allora... poi... così... hai... il piedino da peggio... con la distanza di cucitura... da un quarto di pollice... sì... io ho anche il piedino... dopo vi farò magari una foto... con la guida... nel senso che... c'è questa piccola... eh... lametta... lamella... che non mi permette di far uscire... la stoffa... è un po'... ehm... scomoda... per gli spilli... infatti io... ehm... quando... io che sono... hm... ho sempre insistito... con voi... mettete gli spilli... mettete gli spilli... effettivamente... quando poi vi trovate... con una macchina... con un buon trasporto... eh... e con questo piedino... con... tantissime volte... gli spilli... se ne può fare a meno... poi è vero che ogni tanto... devo disfare le cose... però... allora... ehm... guardate... la... ehm... piega del tessuto... questa volta... possiamo... e anzi... dobbiamo... rispettare... quello che ci dice il tessuto... cioè... dall'esterno... verso l'interno... vedete che il tessuto si piegava... già così... era già comodo così... e qui... facciamo... dall'interno... verso l'esterno... in questo modo... adesso... voglio vedere... perché... io prima vi avevo detto... fatemi... hm... mandatemi un messaggio... se mi dimentico di qualche cosa... per chi non ha la colla... vediamo se è qualcuno... che può essere... che... no... non credo... allora... eh... diritto contro diritto... in questo modo... chi non ha la colla... che cosa fa? mette gli spilli... quindi... in questo modo... e... in questo modo... io vado a mettere gli spilli... sia su questo lato... che su quest'altro lato... perché voglio... ehm... fissarmi... tutte e due le cuciture... in modo che... da una parte e dall'altra... io non debba più preoccuparmene... eh... adesso... sì... che dobbiamo... andare a cucire... scusate... così... perché questo... è il punto... che non dobbiamo oltrepassare... con la colla... non si può... con gli spilli... io... ogni tanto... vado a fare... questo lavoro... cioè... vado a fare... tutte e due le... ehm... vado... vado a sistemare... tutti e due... i miei... i miei... i miei lati... devo fare un po' d'attenzione... perché comunque... questo è un... è un blocco piccolo... e quindi... ehm... insomma... mi incastro un po'... però effettivamente... i lati non si... ehm... non posso... non posso... non posso cucirmi uno sull'altro... quindi... hm... lo faccio... anche per praticità... logicamente... quando ero da sola... vi giro... andiamo... quando ero da sola... non facevo questo... questo movimento... eh... intanto qui avevo toccato... e non vedo più niente... avevi detto che verso la fine... dovevi dirci qualcosa... alla raffanchini... Marzia... allora io adesso... vi racconto... che cosa ho fatto... ma... giusto il tempo di queste cuciture... di questa stiratura... che cosa dovevo ricordarmi... vabbè... che... io... ho cucito... dalla parte sbagliata... perché... in questo... aspettate che mi è incastrato lo spill... in questo... con questa cucitura... di in questo lato... non vedo... la... adesso vi faccio vedere... perché... in questo lato... io non vedo la cucitura... perché... allora... perché qui... non vedo nessuna punta... ma la punta... la vedo qui... però... la lasciamo così... qui invece... mi ricordo... quindi... andiamo a cucire qui... andiamo... a proseguire... sugli spilli... qui arrivo... a... proprio a quel punto... mettetevi... sempre a posto... già... verso la fine... anche... qui... devo... arrivare... a... quel punto... che vi dicevo prima... quindi... all'incrocio... ricordatevi sempre... che... se avete fatto... tutte le... i tagli... e le cuciture... precedenti... fatte bene... in teoria... non dovrebbe... succedere niente... quindi... effettivamente... intanto... ci spostiamo... in là... effettivamente... il nostro quarto di pollice... dovrebbe essere rispettato... perché... comunque... l'incastro... che avevamo fatto... adesso vi faccio vedere... su questi due pezzi... doveva essere giusto... qualche volta... può anche darsi... che non... che non... funzioni bene... aspettate che... ok... questo... è l'ultimo blocco... e quindi... questo... è questo blocco... e... aiuto... e dobbiamo farlo... così... quindi... dall'alto... verso il basso... perché... e dal... e dal basso... verso l'alto... perché... no... non è vero... eh... no... non è vero... perché... ho sbagliato quello di prima... secondo me... adesso vado a controllare... con... le altre stelle... comunque... sullo schema... c'è tutto... aspettate che vediamo... eh... prendo solo questa... vediamo... qua... abbiamo... eh... allora... verso l'interno... è questa... sbagliata... un fenomeno sono... questa è sbagliata... quindi... dal centro... verso l'esterno... brava Lara... complimenti... dieci e lodo... anche oggi... quindi... qui... andiamo... contro natura... chiamiamo... allora... adesso... logicamente... finché... il fisico regge... eh... non appendiamo niente... ma ci... ci... ci spostiamo... per terra... quando poi... vedrete... che ci vuole la carrucola... per tirarmi su... andrò anche... a prendere... eh... il... 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 il muro... no... per... per appendere... però... aspettate... che facciamo questo lavoro... che io... vi faccio vedere... ve lo metto un po' più al centro... così magari... non si vede la scopa... non si vedono tutte le altre cose... io adesso... vi giro... vi sposto... là per terra... e questo... è il nostro... state su... e questo... è il nostro blocco... eccolo qui... allora... logicamente... adesso... vi... vi... vi passo sotto... mi vedete... io non so come... come sistemarmi... perché non so se mi vedete... non so se sono in un'inquadratura... non so niente... però... allora... adesso che cosa andiamo a fare... logicamente... andiamo a cucire... a fare questa cucitura... andiamo a fare questa cucitura... questo... è tutto... unito... eh... non facciamo in tempo... assolutamente... adesso... a fare dei bordi... ma... come disegno... io ho fatto... ci credete che non me lo ricordo più... secondo me... il bordino... e ve lo dico subito... perché il disegno ce l'ho qui... sempre se il computer... fa il suo dovere... eh... poveri noi... ma adesso ve lo dico... eh... non sono scappata... cioè... magari almeno... il... 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 il disegno finale... ci sono... un bordino... scuro... tutto intorno... e... un bordino... un po' più chiaro... all'esterno... eh... cosa facciamo... prendiamo... degli spilli... andiamo a... fare una cucitura finta... qui... mi spiace che non ho... che non vedo più i vostri commenti... perché io devo aver fatto... devo aver fatto... devo aver fatto... buon pasticcio... questa... è la cucitura... allora... questo qui potrebbe essere... un centro tavola... oppure... una copertina da mettere... proprio appoggiata... da buttare sul vostro letto... oppure... questo... mi piace... che... eh... sia... un piccolo quiltino da appendere... magari dietro a un comò... oppure dietro a un... a un... a un... a un... non so come si chiamano... a un mobile... eh... nella vostra entrata... nel soggiorno... insomma... questo... mi dà proprio l'idea... bellissimo... fateli bene così... eh... in... le cuciture... quando... quando andate a cucire con questo scalino... voglio rubare ancora un po' di spilli... ma devo passare... di sotto non... non voglio... ma li ho trovati... perché... vorrei fare questo lavoro... poi spostarvi... appenderlo... perché sapete... quando faccio questi lavori... anch'io poi... il risultato finale... non lo vedo... e quindi... vorrei vedere se... aspettate che... adesso tiro su... e vedete che cade tutto... perché non ho... non ho unito bene con gli spilli... allora facciamo così... adesso vi giro... e vi metto... avete fatto il giro... di tutto... e vi metto così... vediamo se riesco... ad appendere... il nostro mini quiltino... logicamente... se volete una cosa... con delle misure... eh... più grandi... ma facciamo anche così... se volete una cosa... con delle misure... eh... più grandi... si può calcolare... ogni piastrella... vi passo davanti... ma l'educazione... si può calcolare... ogni piastrella... con delle misure più grandi... e adesso però vengo di... cioè... avanti... indietro... avanti... indietro... vengo di lì... perché voglio vedere... anch'io... che effetto fa... è vero... che se avessi avuto... un fondo... unito... avrebbe... sarebbe... risaltato... di più... bellissimo... bellissimo... bella la stella... man mano... che man mano si spegne... boh... eh... così... mi piaceva così... allora... misure... che possono... che possono... agevolmente... eh... ingrandirsi... anche rimpicciolirsi... se volete... eh... tessuti... è quello che vi dicevo prima... adesso però posso anche fare il mio ingresso in campo... eh... tanto... allora... tessuti che... abbiamo finito oggi... abbiamo fatto in fretta... eh... state lì... non so cosa ho combinato... non potete muovervi oggi... boh... allora... tessuti che... possono essere questi... ma possono anche essere dei tessuti americani... e logicamente devono venire... eh... messi in sfumazione... sfumatura... come ho fatto a mettere in sfumatura... nel miglior modo possibile... questi tessuti... oh... chiaramente... so che ci sono delle signore che si stanno... appena approcciando a questa tecnica... e quindi tante cose non le sanno... qualcuna di voi la saprà sicuramente... magari la sapete già... forse avresti dovuto... eh... forse avresti dovuto usare... mi sei scappata su... eh... bellissimo... leide... bellissimo... grazie... me lo dite... me lo dite... come ho fatto a metterle in gradazioni... come ho fatto a dec... e ho fatto delle prove... e ci sono state delle... delle volte che... complimenti la Silvana... benvenuta Silvana... non ti avevo ancora salutato oggi... condividete il video se... il video se vi è piaciuta... però io aspetto di vedere se... molto bello... poi riguardo tutto e provo... brava Monica... mmm... ve lo dico io... ho fatto le foto... della selezione... dei miei tessuti... che sono tanti... però un po' ve li posso prendere... non li prendo tutti... eh... prendo quelli... forse che... questi voglio prendervi... questi qui... ho fatto... la foto... adesso si può con tutta la tecnologia... ho fatto la foto di questi tessuti... vedete che sono... dal chiaro... verso l'oscuro... e... ho trasformato... questa foto in bianco e nero... avendo la scala di grigi... ehm... allora... per esempio... guardate così... io... chiaramente... quando lavoriamo... eh... per passare... da un... da un colore all'altro... avrei chiaramente... fatto questo... guardate quello che vi dicevo... guardate che bellissimo che è questo... spero si veda con questi... fiorellini... bellissimo... questo mi piace davvero tantissimo... per unire... ehm... l'avrei... l'avrei... messo vicino ad un verde... perché logicamente qui c'è questo verde acqua... eh... unito a questo verde... e mi dava quest'impressione di... ehm... 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 non mi viene che cosa poteva essere... che... eh... dolcemente... passavamo da un colore all'altro... invece... facendo la foto in bianco e nero... quindi... sulla scala di grigi... sulle tonalità di grigio... in mezzo ci andava questo... effettivamente io... così... ho voluto fare questa prova... ho voluto fare... un po'... non vi dico... disegna... non disegna... poi non mi piace... poi mi piace... poi... comunque... eh... volevo proprio fare... dal chiaro all'oscuro... con questa stellina che... qualcuno ha scritto... bella la stella che si spegne... io effettivamente... ehm... ehm... l'ho pensata con... bella la stella che non c'è... e che invece poi... piano piano... piano piano... c'è... e poi si... 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 si confonde di nuovo... sapete che io sono un po' tutta fatta male... ehm... bello... ehm... Rossana... ciao... sono tutti... sono tutti... sono tutti bellissimi... sono tutti bellissimi... questo ce l'avevo già... l'ho... riordinato... perché mi piace tanto... guardate questo... eh... com'è delicato... con questo salmone... con questo rosa antico e beige... sono tutti bellissimi... uno più bello dell'altro... non li conosco ancora bene... perché... forse non li ho neanche mai usati tutti... ma c'è qualcuna... che oggi riceverà un pacchetto... con tutti i giapponesi nuovi... che mi sono arrivati... fortunata... che ne dite... finiamo qui... non sapevo questa cosa del... del... sono contenta Maria Cristina... sono contenta per avervi raccontato... vedete che... cerco di... in ogni mia diretta raccontarvi qualcosa... che effettivamente... certe cose dico... le ho ripetute... 8.000 volte... però c'è sempre qualcuna che... in quella diretta... non c'era... in quella diretta... è stata distratta... quella diretta... non l'ha guardata... con attenzione... quindi... ripetere le cose... fa sempre bene... e... tu hai fatto un quilt... tu hai fatto un quilt... con questo... allora... questo... cosa vuol dire Ornella? sei sempre bravissima... Rosanna... mi stai comprando... dopo... ascolto tutti i tuoi audio... eh... Ornella... cosa vuol dire... l'anno scorso... molto bello... con i tessuti... giapponesi... io non me lo ricordo... cos'è che ho fatto? Fatine... che sorpresa... dovevi dirci alla fine... questa cosa qui... della fotografia... Fatine... mi dite che quilt ho fatto... l'anno scorso... con tutti i tessuti... giapponesi... che non me lo ricordo più... allora... se... eh... il quilt con i tessuti... giapponesi... è quello del nostro progetto... giapponese... che poi... venerdì ci sarà... con un'altra... con un'altra... puntata... quindi vi aspetto... domani... in diretta... su... intanto... vi giro... non so come fare... girarvi... perché... mamma mia... eh... vabbè... siete in una... posizione... povere... vi ho fatto... veramente... fare il giro del mondo... oggi... domani... in diretta... sulla... pagina... Instagram... cuore di sto... sul profilo... o Instagram... cuore di sto... e... eh... venerdì... sul gruppo... il negozio delle coperte... vi posiziono così... a volte... le persone... si possono allontanare... ma se si fa... attenzione... si può notare... che l'amicizia... che le lega... è sempre lì... in attesa... di riaffiorare... un pomeriggio... è sempre il momento... di riaffiorare...あり... in attesa... qual... è sempre lì... è sempre... Grazie.